Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese offerte alla Madonna di Loreto preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dalla Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina della famiglia, per le famiglie cristiane affinché siano consapevoli di essere immagine dell'amore esponsale di Cristo per la sua Chiesa. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, l'Angelo del Signore portò l'Annunzio a Maria ed è la concepita per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre. Tu che nell'Annunzio dell'Angelo ci hai rivelato l'Incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amén. Ave, piena di grazia. Ave, Vergine Maria. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Pater nostro, qui esi in cielo, santificato in nome tu, adveni ad regnum tu, fiat volontà tua, sicuti in cielo e in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nost dimittimus debitoribus nostris, et ne nostri inducas in tentazione, sed libera nostra malo. Ave Maria, grazia plena, Domino stecum, benedicta tui mudieribus, benedictus fructus ventris tui, Esos. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Domino stecum, benedicta tui mudieribus, benedictus fructus ventris tui, Esos. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Domino stecum, benedicta tui mudieribus, benedictus fructus ventris tui, Esos. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Domino stecum, benedicta tui mudieribus, benedictus fructus ventris tui, Esos. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inova mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inova mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inova mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta Tui mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inova mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta Tui mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostre. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi, lodato sempre sia il Santissimo Noe di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci la tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi, prega per noi, prega per noi, lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo renno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Inarabu, assalamu alaiki ya mariam, ya mtali anna ma al rabbu machi. Mubaraka enti fin nissa, mubarak samrat patnik, jesua. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salamu alaiki ya mariam, ya mtali anna ma al rabbu machi. Mubaraka enti fin nissa, mubarak samrat patnik, jesua. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salamu alaiki ya mariam, ya mtali anna ma al rabbu machi. Mubarak enti fin nissa, mubarak samrat patnik, jesua. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salamu alaiki ya mariam, ya mtali anna ma al rabbu machi. Mubarak enti fin nissa, mubarak samrat patnik, jesua. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salamu alaiki ya mariam, ya mtali anna ma al rabbu machi. Mubarak enti fin nissa, mubarak samrat patnik, jesua. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salamu alaiki ya mariam, ya mtali anna ma al rabbu machi. Mubarak enti fin nissa, mubarak samrat patnik, jesua. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salamu alaiki ya mariam, ya mtali anna ma al rabbu machi. Mubarak enti fin nissa, mubarak samrat patnik, jesua. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salamu alaiki ya mariam, ya mtali anna ma al rabbu machi. Mubarak enti fin nissa, mubarak samrat patnik, jesua. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salamu alaiki ya mariam, ya mtali anna ma al rabbu machi. Mubarak enti fin nissa, mubarak samrat patnik, jesua. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salamu alaiki ya mariam, ya mtali anna ma al rabbu machi. Mubarak enti fin nissa, mubarak samrat patnik, jesua. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. L'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in anima e corpo. Padre nostro che sei nei cieli, ha santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci la tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. gloria al Padre e al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria della pace, Maria regina della pace, prega per noi, prega per noi, prega per noi. L'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria Regina degli Angeli e dei Santi Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga al tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male Amen Dios te salve Maria llenares di grazia il Signore è contigo bendita tu eres entre todas le donne e bendito è il frutto di tuo vientre, Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Dios te salve Maria llenares di grazia il Signore è contigo bendita tu eres entre todas le donne e bendito è il frutto di tuo vientre, Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Dios te salve Maria llenares di grazia il Signore è contigo bendita tu eres entre todas le donne e bendito è il frutto di tuo vientre, Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen e bendito è nell'ora della nostra morte Amen Dios te salve Maria llenares di grazia il Signore è contigo bendita tu eres entre todas le donne e bendito è il frutto di tuo vientre, Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli Amen Maria, Regina della Pace prega per noi prega per noi l'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù Giuseppe e Maria Salve Regina Mater Misericordiae Vita Dulcedo Salve Maria, Madre di Dio Salve Regina, Madre di Dio Corso di Dio Grazie a tutti. O Clemens, O Pia, O Dulcis, Vittor Maria. Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di Misericordia, Madre della Divina Grazia. Prega per noi, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna di amore, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore. Prega per noi, Vergine degna di lode, Prega per noi, Vergine potente, Prega per noi, Vergine clemente, Prega per noi, Vergine fedele, Prega per noi. Arca dell'Alleanza, Prega per noi, Porta del Cielo, Prega per noi, Stelle del Mattino, Prega per noi, Salute degli Infermi, Prega per noi, Rifugio dei Peccatori, Prega per noi, Conforto dei Migranti, Prega per noi, Consolatrice degli Afflitti, Prega per noi, Aiuto dei Cristiani, Prega per noi. Regine degli Angeli, Prega per noi, Regine dei Patriarchi, Prega per noi, Regine dei Profeti, Prega per noi, Regine degli Apostoli, Prega per noi, Regine dei Martiri, Prega per noi, Regine dei Confessori della Fede, Prega per noi, Regine delle Vergine, Prega per noi, Regine di tutti i Santi, Prega per noi, Regine del Rosario, Prega per noi, Regine della Famiglia, Prega per noi, Regine della Pace, Prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci Signore Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo Preghiamo Concedi ai Tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine Per Cristo nostro Signore Amen Santa Maria, Madre di Dio, ti salutiamo nella Tua casa Qui l'Arcangelo Gabriele ti ha annunciato che dovevi diventare la Madre del Redentore Che in Te il Figlio Eterno del Padre, per la potenza dello Spirito Santo, voleva farsi uomo Qui dal profondo del Tuo cuore hai detto Eccomi, sono la serva del Signore Avvenga di me quello che hai detto Così in Te il Verbo si è fatto carne Santa Madre del Signore Aiutaci a dire sì alla volontà di Dio Anche quando non la comprendiamo Aiutaci a fidarci della Sua bontà Anche nell'ora del buio Aiutaci a diventare umili Come lo era il Tuo Figlio E come lo eri Tu Proteggi le nostre famiglie Per chi siano luoghi della fede e dell'amore Perché cresca in esse Quella potenza del bene Di cui il mondo ha tanto bisogno Proteggi il nostro Paese Perché rimanga un Paese cristiano Perché la fede ci doni l'amore e la speranza Che ci indica la strada dell'oggi verso il domani Tu, Madre Buona Soccorrici nella vita e nell'ora della morte Amen Sotto la Tua protezione Cerchiamo il fulgio Santa Madre di Dio Non disprezzare le suppliche di noi Che siamo nella prova Ma liberaci da ogni pericolo O Vergine gloriosa e benedetta L'angelo di Dio Che sei il mio custode Illumina, custodisci, regge e governa me Che ti fai affidato dalla pietà celeste Amen L'eterno riposo Dona loro, Signore Splenda ad essi la luce perpetua Riposilo in pace Amen Per intercessione della Beata Vergine Madonna di Loreto Scenda la benedizione su di noi Sulle nostre famiglie Soprattutto sui giovani Il Signore sia con voi E con il tuo spirito Vi benedica Dio Onnipotente Il Padre, Figlio e Spirito Santo Amen Glorificate il Signore con la vostra vita Andate in pace Diamo grazie a Dio Magnificata anima mea Anima mea dominum Et exultabil spiritus meus In Deo salvato mea Magnificat anima mea Magnificat anima mea In Deo salvato mea Deo 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 salvato mea Deo salvato mea Deo salvato mea Continua la tua preghiera Continua la tua preghiera Con l'offerta di una candela Quella fiamma Sarà il segno della tua fede Della tua preghiera E del tuo ringraziamento Alla Vergine Lauretana Della tua preghiera E del tuo ringraziamento E del tuo ringraziamento